Vigilia di Gladiator Matera con mister Terro Grimaldi. Mister, che gara si aspetta domani? La solita gara di questo girone. Gara complicata, difficile contro una squadra che comunque ha fatto una buona prestazione domenica contro una corazzata come il Nardò, quindi un'altra gara difficile però devo dire che i ragazzi, la squadra in queste due giornate ha dimostrato comunque di stare sul pezzo, anche ad Altamura nonostante diciamo la sconfitta, comunque la squadra è una squadra viva con le idee chiare, con tanta applicazione in ogni situazione e quindi ma noi sappiamo che questo è il nostro campionato che ci aspetta è questo qui, campionato di grande sacrificio, di lotta, di sofferenza, come sapevamo, come è giusto che sia, quindi però i ragazzi lavorano, lavorano bene alla grande, quindi sono applicati. Poi importante, è importante fare la prestazione, dimostrare di essere una squadra, una squadra che se la può giocare con tutti, è una squadra che dimostri sempre di giocare a buoni livelli sotto l'aspetto del gioco ma soprattutto sotto l'aspetto dell'applicazione. Mister, ha studiato il Matera, che squadra ha visto? Squadra solida, squadra comunque anch'essa composta da elementi di valore, di spessore, di esperienza in ogni reparto. parliamo di una squadra neopromossa, quindi sappiamo tutti che le neopromosse comunque quando arrivi dalla vittoria del campionato c'è sempre quell'euforia e poi parliamo anche di una piazza che in passato comunque ha fatto calcio ad ottimi livelli. Grazie a tutti.